Ha detto bene, ha usato le due parole magiche proprio nel senso di festa e nel senso di inclusione. Special Olympics perché Special Olympics nel movimento che lo organizza anche se in effetti poi il comitato organizzatori in questo caso qui a Reggio Calabria è l'Andromeda Polisportiva che è un'associazione che ormai ha 33 anni, ha 30 anni più diciamo di militanza in questo movimento e si occupa di attività sportiva rivolta a persone con disabilità intellettiva. La festa dello sport in questo caso di basket perché sabato 16 e domenica 17 festeggiamo appunto il basket attraverso lo sport unificato cioè diciamo che sia la formula magica di Special Olympics per parlare di inclusione. Giocatori con e senza disabilità giocheranno insieme e su tutto il perché. Naturalmente gli incontri e l'avvenimento, l'evento sarà al Palalumaca e ospiterà dieci team che provengono dalla Basilicata, dalla Puglia, dalla Sicilia e tre team della Calabria.